Oggi super unboxing perché mi è arrivato un pacco da Chiara Ferragni Andiamo subito a vedere cosa mi ha mandato Automuniamoci di salviette e leggiamo la letterina Io la Ferri l'amo, infatti questo bigliettino è tutto sbrilluccicoso Ciao Mauro, stuperei tutti con i nuovi beauty look da realizzare con la mia nuova collezione Chiara, un bacino Come prima cosa partirei con i blush, proviamoli tutti Questo è lo 01, proviamolo subito Di qua applico lo 02, raga è tipo Rosa Barbie, lo amo Bellissimi entrambi, adesso proviamo anche lo 03 E ha tonalità più sul rosso, quindi proviamolo subito Molto carino anche questo Poi passiamo a questi due illuminanti Questo qua dorato è lo numero 05 E questo qua più chiaro è il numero 04 Proviamo subito anche questo che mi ispira di più Ve li mostro sul braccio perché secondo me senza base hanno un effetto un po' diverso Quindi proviamo entrambi vicini anche Due effetti totalmente diversi Questo qua è super sbrilluccico, raga bellissimo Questo qua magari d'estate che mi abbronzo un po' di più ci sta però Sicuramente ne va applicato un pochino di meno Ma passerei alle matite labbra che mi Grazie a tutti Grazie a tutti